Click! Ben ritrovati i miei cari vintori dell'Usona Bar Calcio! Ieri abbiamo iniziato con l'ufficializzazione da parte del Bologna Football Club di Dalinga. Oggi ci si augurava potesse chissà magari arrivare notizia positiva per quanto concerne la nuova acquisizione in difesa, cioè Mats Hummels, che sappiamo nella giornata di ieri, essere partita in sua direzione, dunque in quel di Mallorca, perché è lì che sta soggiornando in vacanza Mats Hummels l'offerta del Bologna. Il giocatore si è preso due giorni di riflessione, due giorni di riflessione che verosimilmente termineranno con la giornata di domani sera. Per cui, attendiamo, oggi non ci sono notizie su quella fronte, così come d'altronde. Non ci sono notizie di ufficializzazione neanche in uscita per quanto concerne quello che sappiamo, Calafiori in direzione Londra-Arsenal, però oggi c'è una notizia che ci deve far pensare. E adesso sviluppiamo su di questo il ragionamento, di cosa stiamo parlando. Emy Holm, nostra nuova acquisizione sulla corsia laterale di difesa destra, purtroppo nella giornata di ieri ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro. Il che vuol dire, ancora non sono uscite le note ufficiali ovviamente, perché oggi è rientrato il giocatore a Bologna, dunque ha abbandonato Vallès per rientrare qui a Bologna, per sottoporsi agli esami del caso, per stabilire quindi l'entità, appunto la portata dell'infortunio. E ancora bene non si sa l'esito degli stessi, stiamo a vedere le notizie quando usciranno, ma laddove dovesse essere appunto confermata la distorsione al ginocchio sinistro, io dico meno di due settimane sicuramente non sono, il che vuol dire saltare completamente Vallès. Questa è una brutta notizia, questa è una brutta, veramente brutta notizia, e mette in discussione anche l'essere pronti per l'inizio del campionato, perché adesso vediamo di che entità possa essere, ma potrebbe anche stare fuori un mese, ragazzi, adesso vediamo, non azzardiamo. Sempre sperando che non vi sia qualcosa di più severo, ovviamente adesso non stiamo neanche a citarle, eventualmente, che avete già capito, no? Però è una cosa che ci deve far riflettere, perché durante l'anno, attenzione, adesso è accaduto il 24 di luglio, 23-24 di luglio, tra virgolette tutti i santi aiutano, ma se queste cose qui poi accadono durante l'anno, io non ci sia attrezzati a modino, sono cazzi. Quando io dicevo, ragazzi, attenzione, a non considerare, che poi non è che non consideriamo, perché poi, come sempre siamo i primi a dire, parleremo poi a giochi fatti in maniera, appunto, lapidaria a fine mercato. Adesso, ovviamente, parliamo con i se e con i ma. Ma se si dovesse, appunto, se oggi fosse, che ne so, il primo di settembre, si fosse deciso di rimanere così come siamo sulle fasce, noi siamo, io continuo a ripetere, siamo deficitari, perché a destra, ad esempio, adesso con l'infortunio di Holm, rimaniamo con Poscia e con De Silvestri, che per carità, non ho De Silvestri, io l'ho visto, una gran foga, un gran fisico, quant'altro, però in campo ci vanno anche le prestazioni atletiche, non quelle fisiche, il che vuol dire saper mantenere la corsa dei ventenni che ti troverai sia in campionato, sia nelle coppe, sia più slighe. Per cui bisogna sapersi anche tenere pronti ad affrontare qualcuno che vada come un treno per 90 minuti. E se 90 minuti uno non ce li ha e appunto viene un raffreddore a qualche dur'altro, siamo già nelle condizioni, insomma, di dover riadattare i giocatori. Allora un jolly che possa magari saper essere disimpegnato sia a destra che a sinistra in difesa, io ci farai un pensierino ancora di andarlo a prendere. Comunque stiamo a vedere sicuramente Sartori saprà attrezzare all'evenienza nella migliore delle modalità. Detto questo, ovviamente, iscrizione al canale, condivisione e subito mi piacino a Maracamande. E poi un'altra cosa di cui si parla poco, ma perché ovviamente si dà più presa sulle entrate rispetto alle uscite, però attenzione perché non dovrebbe essere il nostro caso, però sappiamo che poi lo diviene. Dobbiamo anche guardare alle uscite, nel senso, ad esempio, Kevin Bonifasti, con tutto il bene che io voglio a ragazzo, perché l'è veramente un gran bravo ragazzo, ma davvero, lo dico seriamente, però con tutto il bene che voglio a Kevin Bonifasti, io, sinceramente, siamo il 24 di luglio, io oltre al 2 di agosto non lo vorrei più vedere in rosa, ho quasi temo paura di vedermelo rimanere in rosa per l'inizio del campionato, che poi non venga lo sghibizzo ad italiano di metterlo anche in campo, perché è meglio fargli vedere le cassette di chi, appunto, sia Kevin Bonifasti, con tutto il bene umano, ma io parlo sempre e solo dal lato calcistico. Allora, sapete, quando io dico questo, lo dico anche perché se uno andasse a scaricare gli stipendi del Bologna, andrebbe a scoprire che Kevin Bonifasti, penso sia, se non il terzo, ora che abbiamo preso da Linghi, il quarto, il quinto, che guadagna di più al Bologna, e questo sinceramente non è ammesso e concesso. È un giocatore in scadenza, contrattuale, difficilissimo da piazzare, me ne rendo conto, perché praticamente chi te lo viene a comprare, sapendo anche questo, però è un giocatore che deve essere quantomeno piazzato in prestito, con nessuna possibilità che tra l'altro la squadra che ce lo venga a prendere possa prendersi l'onere di pagarne lo stipendio, perché è uno stipendio importante, penso sia a memoria, vado a memoria, un milione e due, per Bonifasti è una bestemmia, e sarà verosimilmente una roba che si risolverà a fine mercato, quando magari ci sarà l'infortunio della squadra X, guarderà in quello che rimane e troverà Bonifasti quasi cioccolata, e noi lo spaceremo per cioccolato fondente. Però insomma, questo non ci deve poi precludere adesso di andare a fare le entrate, perché vuoi Bonifasti, vuoi magari Nicola Moro, ma sì lo cediamo, ma non lo teniamo, si parlava di El Azuzido, bisogna decidere, o lo si cede o lo si tiene, lo stesso Vanoidon, che io non ho mica capito, l'abbiamo riceduto in prestito, l'abbiamo ceduto infinitamente, chissà, non si è capito, le uscite vanno fatte anche per i giocatori che si ritengono non adatti a questo progetto, non solamente per quei giocatori che hanno fatto faville, per cui ci vengano ad offrire milioni e milioni di euro, ok? Perché anche quelli fanno liberare molti ingaggi, e insomma ci liberiamo anche di giocatori che sappiamo essere non utili alla nostra causa, e soprattutto andiamo a liberare slot, visto che qua si parlava in tempi non sospetti, slot numerici, per andare a fare acquisizioni invece di giocatori che ci possono essere più utili, perché poi, aspetta, aspetta che cosa succede, vedi ad esempio su Pras, che si diceva, Bologna, super interessato da ancora prima dell'Europeo, adesso sembra tardi, perché su Pras è il Borussia Dortmund, e adesso è spuntato Newcastle, per cui adesso diventa obiettivamente, con l'entrata di Siena, delle società della Premier, un giocatore quasi imprendibile, a fronte già della richiesta altissima che fa lo Stumgratz, che mi sembra che sia sui 15 milioni di euro, tanto per dire, l'Atalanta in questi giorni ha fatto pervenire la terza offerta per O'Reilly, quello del Celtic, che è di 19 milioni, quindi, voi capite, quindi insomma, a quel punto, tanto vale, sembra quasi andare su altri profili, però insomma, io mi rendo conto che Pras fosse sicuramente un profilo molto interessante, però che a sottrinare questo, che si aspetti, poi ce li fottono, lo stesso Mats Hummels, attenzione, adesso va bene, noi l'abbiamo fatta l'offerta, sperando che sia così, perché poi la certezza al 100%, io non ce l'ho sinceramente, ma mi auguro che sia veramente quello che è stato scritto, se poi domani sera non abbiamo ancora la risposta, il fatto che si sia fatta l'offerta, incomincia già più a vacillare, il fatto che magari Mats Hummels voglia perdere tempo, fa vacillare l'offerta, perché un Mats Hummels, fa vacillare l'affare, perché un Mats Hummels, sicuramente altre offerte ce le avrà, e quindi, aspetta, aspetta, poi il giocatore magari si prende due giorni, una settimana, dieci giorni, e nel frattempo che Mats Hummels decide, anche gli altri poi si accasano altrove, quindi dobbiamo anche un attimino accorciare i tempi per il tutto, ecco, non farci trovare alla sprovvista e totalmente alla merce appunto di quello che accade, senza metterci noi in prima persona, verbo, ecco questo volevo dire, poi per il resto, diciamo, notizie di giornata, non ve ne sono, Zig Zee ha accolto con un Instagram, penso, da Linga, con un messaggio di godersi la città, che è bellissima, e c'è della gente che è fantastica, si vede che, insomma, vabbè, è ok, grazie Zig Zee, ci viene da dire, e niente, per il resto, per il resto, non ci sono, non ci sono altre, altre dichiarazioni, se non quelle di italiano, che la Dalvales dice che sarà un Bologna che farà possesso palla, ok, speriamo anche che faccia gioco, è bel gioco, non solamente possesso palla, e poi appunto dice, in fase difensiva ci sarà da rincorrere, ripiegare, questo già a me incuta timore e terrore, devo essere tremendamente onesto, ma proprio tremendamente, perché in passato, non avremo mai fatto dichiarazioni del genere, poi fiducia ovviamente massima, Vincenzo Italiano, che ha i suoi diktat, e quindi bisogna prima vedere, e poi parlare, per carità, però insomma, vuole il baricento alto, è lui il primo a dirlo, e dunque i difensori, quest'anno saranno più esposti, la difesa sarà più esposta, il portiere sarà più esposto, sarà quindi sicuramente un equilibrio differente, da quello che c'era l'anno scorso, per quanto riguarda appunto la voce di Hummers, lo stesso italiano dice, vediamo cosa succede, vediamo cosa succede, non aggiunge altro, se non che appunto la situazione, sul Calafiore Romero è delineata, e Hummers è un giocatore sicuramente di spicco elevato, e finisce dicendo che la società sul mercato sta lavorando bene, sta lavorando bene, su Dalinga dice che l'ha visto voglioso, ci tiene a fare entrare bene in campo, vuole subito capire quali sia l'idea di gioco, e quindi questa la voglia di fare bene, non ha un fisico importante, è un ottimo acquisto, sentenza Vincenzo Italiano, dunque che rilascia queste dichiarazioni, su quello che il Bologna sta facendo, e maturando anche a livello, sia sul mercato, sia in campo, come ci dobbiamo attendere, il nuovo Bologna marcato Vincenzo Italiano. Bene, miei carissimi, oggi ho fatto tardi, come avete visto, dunque domani uscirà quel video, che vi ho promesso, riguardo all'analisi profonda, su Calafiori, Zirgze, e su quello che recitavano i loro contratti, se si poteva, e come fare diversamente, a suo tempo, poi certo, con il Sano di Poi è tutto facile, però insomma, questo non ci esime, dal dover chiacchierare, discutere insieme. Detto questo, dunque, il campanaccio pastorale è sempre attivo, quelle cose le abbiamo dette, e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchi alla barra!